intanto la protesi provvisoria consente da subito entro le 24 ore di riprendere ad avere una vita normale non avere alcuna protesi mobile fastidiosa che si appoggia su una gengiva dove appena stato eseguito l'intervento e avere la massima sicurezza nessun rischio di avere un disagio anche sociale per via di una cosiddetta dentiera la protesi provvisoria fissa permette di avere tutti questi vantaggi inoltre è assolutamente sconsigliato avere subito una protesi definitiva in quanto sia i livelli d'osso che i livelli gengivali la morfologia della gengiva del paziente va incontro nell'arco di tre mesi a notevoli cambiamenti che renderebbero alla fine del percorso antiestetica non funzionale difficile da pulire la protesi che abbiamo appena consegnato diciamo che il tempo sufficiente per l'osteo integrazione degli impianti quindi per il passaggio a poi alla protesi definitiva è di tre mesi con le moderne tecnologie e con le moderne superfici implantari in titanio